dopo le luci della città, ma le aziende non possono chiudere, le aziende produttive non possono chiudere, perché vorrebbe dire fermare economicamente ancora una volta il paese e quindi un aiuto sia alle famiglie, ma un aiuto anche alle aziende che in questo momento si stanno riprendendo. Focon Commercio dice che sono a rischio 120.000 imprese, vuol dire 370.000 posti di lavoro. Questa deve essere una risposta che deve dare questo governo e chi si gandida a gestire l'Italia da novembre in poi. Evi, da sempre lei con Europa Verde ripetete che sarebbe necessario tassare al 100% gli extra profitti.